Siamo con Giuliano Granato, candidato alla presidenza della regione Campania per potere al popolo. Ciao Giuliano, grazie per la tua disponibilità innanzitutto. Ciao a tutti. Siamo ormai in prossimità, ti immaginiamo abbastanza impegnato con la campagna elettorale, che tu stai declinando molto in giro per i territori. Partiamo da questo, che risposta stai intercettando? La proposta politica di potere al popolo, che tipo di risposta sta avendo e che tipo di sensibilità sociale e politica va a intercettare? Il primo dato che mi preme sottolineare è il fatto che noi siamo gli unici che stanno facendo campagna elettorale, andando in giro, andando ad incontrare le persone. In sicurezza però lo stiamo facendo, gli altri la campagna elettorale la stanno facendo, probabilmente nel chiuso dei salotti. La risposta di tante delle persone che ho incontrato è una risposta che contiene all'interno una bella contraddizione, nel senso che c'è tanta sofferenza sociale, tante difficoltà che escono fuori dai racconti, però che allo stesso tempo tanta dignità e una voglia di mettersi finalmente alle spalle il passato, finalmente alle spalle tanti dei problemi che purtroppo si vivono qui in Campania. Io mi è rimasta impressa una frase che mi ha detto una donna che abbiamo incontrato a Sarno, alla centrale Biogas, pure alla centrale Biogas che è una centrale che sparge inquinamento su tutto il territorio, oltre ad una puzza veramente nauseabonda. Questa donna ci ha detto, io devo proteggere i miei figli, li devo mandare via. Io credo che questo sia l'emblema dello Stato a cui ci ha condotto il governo non solo di De Luca, ma insomma gli ultimi vent'anni di gestione della regione. E invece dall'altra parte c'è tanta gente che da una parte non vuole andare via, dall'altra crede nella possibilità che la ricchezza che vede tutti i giorni sotto gli occhi, parlo anche del patrimonio culturale, del patrimonio naturalistico, ma anche delle conoscenze che un popolo ha maturato nel corso degli anni, in particolar modo con i settori più giovani che hanno studiato, che si sono formati, che magari hanno fatto anche delle esperienze all'estero e non vedono l'ora di mettersi all'opera, il problema è che va fatto saltare il tappo di questa classe dirigente, di questa trama di potere, per poter finalmente lasciare libera di esprimersi queste energie. La proposta politica di potere al popolo, tra l'altro come tu hai ricordato, questa campagna elettorale penso sia caratterizzata, questo te lo voglio chiedere, me l'hai un po' suggerito tu, è la campagna elettorale ai tempi del Covid, che tipo di differenze ci sono anche della risposta delle persone? C'è più paura, più timore, più preoccupazione? Anche qui io riscontro una certa ambivalenza, perché da una parte c'è più paura, ci sono anche attivisti di potere al popolo del nostro movimento che hanno paura, che hanno difficoltà ad organizzare, anche a pensare di organizzare un incontro pubblico, perché c'è paura, perché comunque al di là di quello che dicono i negazionisti, i morti ci sono stati e se qui al sud sono stati meno che al nord è perché abbiamo avuto responsabilità di rimanere a casa e soprattutto il miracolo del fatto che il virus non è sceso troppo, altrimenti sarebbe stato veramente un disastro. Quindi da una parte c'è effettivamente questa paura, però dall'altra in alcuni settori in particolare c'è una presa di coscienza di cui non sappiamo ancora bene la portata, non sappiamo se si tradurrà nell'immediato nel voto del 20 e del 21 settembre, se si tradurrà in una presa di coscienza più generale, se rientrerà, però in una presa di coscienza del fatto che il problema non è il Covid, o meglio il Covid ha fatto esplodere tanti di quei problemi pregressi, per cui si riflette sul fatto che ad esempio le debolezze riscontrate in termini di lavoro, penso a chi non ha goduto di un bonus o a chi non ha ancora ricevuto la cassa integrazione, ha maturato, sta maturando una nuova coscienza che gli porta a dire il problema è quello che c'era prima, il problema era il mio contratto da precario, il mio contratto da stagionale, era il fatto che io lavorassi a nero, io non ho diritto al bonus, non perché non ci sia stato qualcuno che ci abbia pensato, ma perché essendo lavoratore a nero sono completamente escluso e quindi domani, o meglio già oggi, vorrei invece la dignità sul lavoro, vorrei dei contratti, vorrei poter godere di quelle garanzie minime, insomma, ora stiamo parlando di mondo del lavoro di cui tutti dovrebbero poter godere, quindi riassumendo io direi che c'è da una parte la paura e dall'altra però sta maturando una nuova coscienza ed è su quella che bisogna cercare di far leva, perché la paura è reazionaria e spinge alla conservazione, invece questa nuova coscienza che si sta creando può essere la leva della trasformazione e la leva su cui costruire finalmente l'apertura al futuro. La proposta politica di potere al popolo, il fatto di presentarsi a queste elezioni, cosa rappresenta? Una proposta di rottura, in opposizione, in polemica, in rifiuto di quello che tu hai descritto bene, gli ultimi vent'anni non è soltanto De Luca, o c'è proprio una proposta strutturale, cioè scegliere potere al popolo in campagna vuol dire scegliere un progetto di politica, una visione sociale, delle azioni concrete sui territori? Guarda, mi hanno fatto spesso questa domanda, nel senso che me l'hanno declinata un po' diversamente, mi hanno detto ma la vostra è una candidatura di testimonianza, perché comunque siete una forza giovane, relativamente piccola dal punto di vista quantomeno della presenza elettorale, e io a questa domanda mi innervosisco sempre, nel senso che noi non siamo nati per testimoniare nulla, cioè noi non siamo la testimonianza di un mondo passato che non si arrende e che vuole continuare a vivere, noi siamo il futuro che arriva, cioè siamo esattamente l'opposto, noi non siamo una forza testimoniale, no, noi siamo una forza che ha un unico grande progetto, a partire dal 20 e il 21 settembre qui in Campania, ma in realtà per tutto il paese, noi siamo una forza di governo, noi siamo la forza che dovrà governare il paese, le nostre regioni nel futuro, nel futuro prossimo, ora abbiamo un processo e ogni pietra che riusciamo a mettere è una pietra verso questo obiettivo, che cosa significa però governare un paese, governare una regione? Significa governarla per le maggioranze e con le maggioranze, esempio concreto che si può fare, che posso fare, io ho cominciato la campagna elettorale, uno dei primi incontri è stato a Torrento, in penisola torrentina, che chiaramente tutti conoscono per le bellezze paesaggistiche, per le piagge, per il mare, insomma è uno splendore e questo è indubbio, è fuori dubbio, però quando si pensa alla costiera amastitana, alla penisola torrentina, a Ischia Capri, non si pensa quasi mai a coloro che reggono questo tipo di sistema, nello specifico faccio riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici, spesso stagionali del turismo, coloro che incontriamo una recezione in un albergo, oppure ad un bar, oppure il bagnino del lito, tutte queste persone negli anni sono state duramente attaccate dagli altri, dalla minoranza dei grandi albergatori, di atto albergatori e non è un caso che De Luca e Salvini entrambi sono andati a incontrare atto albergatori, mentre io e noi di potere al popolo siamo andati a incontrare questi lavoratori che per la prima volta, dopo anni in cui hanno subito in silenzio, stanno finalmente venendo alla luce e stanno denunciando la truppa dei contratti a griglio, dei contratti falsi, dei contratti che sono formalmente per 20 ore a settimana e in realtà nei lavori 45, 50, però lo dipende per 20, dipende di 600 euro, 700 euro al massimo, in condizioni di sfruttamento incredibile e quando arriva l'ispettorato del lavoro che abbiamo mandato noi con le nostre denunce, il titolare invita gentilmente i lavoratori a fare pinta di essere dei turisti e a stendersi sui lettini a bordo piscina, questa è la situazione, allora il governo del paese, della regione non è il governo in generale, il governo è dalla parte di chi? Noi siamo dalla parte della maggioranza, ci sono decine di migliaia, ad esempio i lavoratori stagionati e il turismo e non c'è nessuna forza politica che ne faccia gli interessi, che significa nell'immediato bonus, che significa nell'immediato ammortizzatori sociali che aiutino ad attraversare questa fase difficile, ma che nel medio e lungo periodo si chiami stabilizzazioni, si chiami lavoro vignetoso, si chiami contratti a tempo indeterminato, ma quelli veri, non quelli con il Jobs Act di cui io stesso sono vittima perché sono stato licenziato, il regime di Jobs Act e molto difficilmente avrò la prospettiva del reintegro in azienda. questo è il progetto di governo, ora l'ho declinato in una specificità sul mondo del lavoro, però potere al popolo non nasce per resistere, noi nasciamo col sorriso sulla faccia per andare a vincere e per andarci a prendere le reti di questo paese. L'hai spiegato veramente molto bene ed è molto chiaro insomma. Un'ultima battuta, noi siamo stati bombardati, non soltanto chi vive in Campania, un po' tutto il paese dai video sotto lockdown di Luca, che hanno dato un'immagine di un certo tipo di politica molto autoritaria. Di cosa ha bisogno la Campania? Che tipo di approccio politico necessità. Quali sono le cose assolutamente da fare per chi verrà, speriamo, potere al popolo e che le cose assolutamente da non ripetere mai più? Sì, sarebbe molto lunga immagino, in breve. Sì, solo una piccola riflessione su De Luca, perché De Luca sta facendo una campagna elettorale da mesi fondandoci soltanto sull'elemento della paura, che è l'elemento reazionario per eccellenza, perché lui suscita un meccanismo, una necessità di protezione da parte del nostro popolo, una necessità di protezione che è reale, però la declina in un modo assolutamente autoritario. Sostanzialmente dice, voi dovete avere paura, perché qui si può morire, perché qui abbiamo tanti problemi e quindi qual è la soluzione? Affidatevi a me che vi risolvo i problemi. Noi diciamo, c'è da aver paura, non soltanto del Covid, ma della disoccupazione, dell'inquinamento, del più alto tasso tumorale d'Italia, della terra dei fuochi, del più alto tasso di mortalità evitabile. Questa è una delle cose da evitare assolutamente, mortalità evitabile. Significa che nella nostra campagna tanti cittadini, troppi cittadini, muoiono per la scarsità dei servizi sanitari. E non è colpa dei medici, non è responsabilità degli infermieri, degli os, del personale sanitario, che anzi fanno fin troppo, lavorano, si sacrificano fin troppo, ma è responsabilità di un sistema politico che ha devastato la sanità pubblica per fare un po' gli interessi della sanità privata, un po' in osseguo alle regole dell'austerity che sono tanto piaciute a livello internazionale. Quindi su questo è una prima cosa da non fare. L'altra cosa da non fare è di non costringere i nostri giovani, ma non solo giovani, a dover scappare, a dover emigrare. Noi siamo stanchi di dover andare al nord, di dover andare all'estero. Non è questione di risorse umane, di capitale umano che si perde, perché noi non siamo una merda, noi non siamo una risorsa da sfruttare. Noi siamo persone, uomini e donne in carne e ossa, che sono nate qui in campagna e che vogliono avere la possibilità di rimanere qui e di vivere una vita dignitosa. In cui se mia madre, come purtroppo è successo, ha un problema ginecologico, non è costretta ad andare fuori in regione a curarsi perché qui le viste d'attesa sono troppo lunghe. Una regione in cui mio fratello non deve scappare per andare a insegnare a Torino perché le gradatorie sono aperte praticamente solo al nord, ora non mi soffermo sul meccanismo. Oppure in cui una donna non debba dire al proprio figlio che se ne vada perché qui c'è solo morte. Questo è quello che va evitato. Quello che c'è da costruire è il futuro. E non è un libro dei sogni, non c'è il programma di potere al popolo, non è qualcosa di nero più bianco in un programma. È la realtà che abbiamo già davanti. Io penso ad un settore cardine delle regioni, il trasporto. Io ho visto in Cilenzo, quindi nel sud della campagna, un altro posto spettacolare, delle imbarcazioni alimentate solo ad energia solare per far mettere pini al gasolio. Qui abbiamo la sfida della transizione ecologica, che non è una riverniciatura verde per dare i soldi alle solite aziende tipo Enel, che si riciclano e fanno finta di essere verdi. Qui si tratta di dare veramente una svolta, di salvare il pianeta, ma per salvare il pianeta va fatto un cambio profondo di sistema. Con De Luca, con Caldoro, con la vecchia politica noi non riusciremo mai a farlo. Un po' perché non hanno interesse, un po' perché sono inadeguati anche da un punto di vista culturale per una sfida del genere. Bisogna far arrivare il futuro. Noi di potere al popolo siamo una parte di questo futuro. Non pensiamo di essere tutto il futuro. Però pensiamo che il popolo della nostra regione e in generale il popolo del nostro paese sia pronto per qualcosa di molto più dignitoso che non la classe politica che fino ad ora ci hanno regalato.